L'Abruzzo non può sentirsi chiamato in causa dalle critiche di Draghi sui ritardi della somministrazione dei vaccini, poiché i dati chiariscono in modo incontrovertibile che considerando il rapporto tra dosi consegnate e dosi somministrate, la performance abruzzese è assolutamente in linea con quella delle regioni considerate più virtuose. Lo ha dichiarato il presidente dell'Aggiunta regionale Marco Marsilio in risposta all'editoriale di Lina Palmerini, pubblicato dal Sole 24 Ore. Come riportato dai dati ufficiali pubblicati sul sito del Governo, ha aggiunto Marsilio, in Abruzzo ad oggi sono state somministrate alla categoria degli over 80 il 35,9% del totale delle dosi, valore tra i più alti in Italia, posizionandosi al settimo posto tra le regioni più virtuose, subito dopo la regione Emilia-Romagna e prima della regione Lazio. Se è vero che la percentuale dei vaccini completati sulla popolazione over 80 in Abruzzo, pari al 19,3%, leggermente inferiore alla media nazionale del 21,7%, questo è dovuto al fatto che l'Abruzzo ha ricevuto un valore di dosi pro capite tra i più bassi d'Italia, 185 dosi contro le 228 della Liguria, le 216 dell'Emilia-Romagna e le 194 nel Lazio.